Auguriamo oggi a Roma i quattro bus elettrici che gireranno per tutto il mese di febbraio nella città, nel centro della città. Questo fa parte di una più ampia campagna out of home di Uniamo per la giornata delle malattie rare 2024 che ci consentirà di attirare i riflettori e accendere le luci sulla giornata e sulla condizione delle persone con malattia rara. L'iniziativa della brandizzazione va avanti anche a Milano, Bologna e Venezia. Con brandizzazioni diverse all'aeroporto di Venezia, sulle pensiline di Bologna, un tram, una pensilina e un'intera metropolitana a Milano. Oltre a questo ci saranno incontri, convegni, attività e iniziative varie che sempre di più faranno in modo che possiamo portare le nostre richieste al governo. In molti di questi appuntamenti ci saranno parlamentari che ci accompagnano in questa lotta e l'intergruppo parlamentare malattie rare e onco-ematologiche. Insieme a questo abbiamo un'iniziativa su Fanta Sanremo, abbiamo già oltre 48.000 squadre nella Lega Uniamo e venerdì ci sarà una sorpresa proprio legata al mondo delle malattie rare. Quindi seguiteci, usate gli hashtag e fate in modo di espandere il messaggio che vogliamo passare.